Buongiorno amici di YouTube, benvenuti a quella che non è una top 5, infatti per gli impegni della Barcolana non sono riuscito a prepararvi per oggi una top 5, ma già venerdì torniamo con il solito regime sempre qui sul canale del Blando Show di YouTube. Volevo mostrarvi un episodio che è successo durante la Barcolana, appunto durante le riprese della Barcolana, stavo girando parte per un documentario, parte per il Blando Vlog, sono caduto all'indietro dopo essermi appoggiato sul tetto del motoscafo, stavo per cadere in acqua, potevo spaccare la telecamera, fortunatamente non è successo niente, non mi sono neanche fatto male e questa in pratica è la mia gaffe durante la Barcolana. Ci vediamo sempre venerdì con la prossima top 5. Sono partiti, come avete sentito sono partiti, decisamente sono partiti e fa una certa impressione vedere tutte queste barche che vengono contro di noi. Non ci sono problemi, l'importante è che non ci siamo più fatto male. Ciao! 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 Ciao!